Salaam, gran genito da Minghai, organizzo un giro ciclistico per fare concorrenza quello del Dubai Altro giorno c'erano i giovani ciclisti, allora io ho raccontato qual è il colmo per dei giovani ciclisti in erba Questi crimi guardano e non capiscono niente, non capiscono un minchiai E io gli dico, il colmo per dei giovani ciclisti in erba è fumarsi la canna del telaio